Questo messaggio è stato canalizzato durante il seminario delle Acque a Fontaniva di Padova il 29 settembre 2012, potete trovare il messaggio audio completo in tutte le sue parti in area soci di questo sito Amrir Di Maia Le Sette Gemme della Gioia. Parole di Amrir Di Maia in canneling durante la meditazione con le Acque a Fontaniva? Impersonali arbitri del proprio essere e non essere. L'impersonalità realizza Dio. Bisogna impersonalizzarsi e ritirarsi nel proprio tabernacolo. Meditazione del Sensei in lingua giapponese Il Sensei è l'arte dell'insegnare, di colui che insegna o dona un insegnamento. Premessa questa tecnica meditativa e antichissima, giunge dall'Antico Oriente ove Amrir ha passato la sua vita in un corpo umano nel Maestro Tetsuji Kaizenyei 1219-1309. È qualcosa di molto forte ed importante. Al tempo veniva trasmessa solo da Maestro a Discepolo, qui Amrir la dona con molto amore e semplicità ricordandone però la grande forza Tao, che la governa. Meditazione del Sensei, parole trascritte durante il seminario delle Acque a Fontaniva? Visualizzate un S all'interno della nostra mente e la percorriamo da sopra a sotto con l'occhio interiore, trascendentale, lentamente. In questo modo stiamo chiamando l'unità, l'energia yin yang come nel Tao, la linea dell'equilibrio dove non è né bianco né nero. Io chiamo una grande forza dell'universo, la forza trina, che realizza una grandissima forza, la forza dell'equilibrio, che è la forza più grande dell'universo. Porta l'essere al contatto con il Divino. La meditazione fatta con l'acqua diventa diamantizzata quando invio in essa l'energia più forte dell'universo, che è l'energia di equilibrio. Dio ha creato tutto l'universo nell'equilibrio, che è la maggior forza di Dio, mettere tutti gli estri al loro posto in equilibrio perfetto, le dimensioni al loro posto, gli esseri al loro posto, tutti in equilibrio in attesa del grande salto all'interno del vortice, salto quantico. Siamo in attesa di essere chiamati dentro. Dal 21-12 i nostri liquidi saranno come l'acqua nella campana quando viene suonata, inizieranno a muoversi stimolati dalla vibrazione del suono della campana stessa. Le tempeste elettromagnetiche causeranno delle onde nella ionosfera creando neutrini accelerati che faranno aprire il corpo di luce, aprendo dei nuovi cacra sopra la nostra corona. Avremo 12 cacra, 7 già presenti più 5 di nuovi, il dodicesimo si troverà all'altezza del nostro braccio alzato sopra la nostra testa. Si devono aprire i nuovi cacras perché dobbiamo ascendere, salire, entrare in un'altra dimensione, per forze di cosa. Parla Amrhir Di Maya durante il seminario. Gioia l'amore più antico, gemma preziosa. I cinque anelli del Re Salomone. Uno per ogni dito e dieci nelle sue mani corrispondono ai mondi supremi della coscienza, nella forza, nella salute, nell'amore. Indossare anche solo uno di questi anelli del Divino Salomone, vi può aiutare a sentirvi compagni di Dio. Fidanzati del Padre amoroso, compagni. Per realizzare l'uno bisogna fidanzarsi, sposarsi con il Padre attraverso i suoi anelli sacri, che forgiano la vostra salute, forza, amore necessari per guarire e dare completezza nell'essere. I cinque anelli di Salomone sono cinque gemme apposte sopra cinque diversi anelli, che sono come cinque nodi ai quali il discepolo deve annodare nel suo cuore per sposarsi con il Divino. Il matrimonio tra uomo e Dio è fondamentale porta di eccellenza, una porta di eccellenza e è un luogo in cui solo lo Spirito può passarci attraverso e lo passa nel momento in cui è egregiamente realizzato i cinque anelli di cui prima ho parlato. Realizzare la forza interiore, realizzare l'amore, la consapevolezza, la luce necessaria e l'equilibrio fondamentale vi portano ad attraversare quella porta e a sposare Dio. Eterno sposo di quel Maestro, che ha affidato la totale vita a Lui, in totalità dell'essere Io esercito il potere di Dio a me confermato in quanto mi sono proposto di realizzare in me la mercaba necessaria per alleggerire ciò che è pesante dentro di me. Il discepolo incontra il Maestro e il Maestro lo accoglie ma prima di aprirgli la porta del suo monastero gli chiede di fare cinque nodi alla corda, che tiene unita la sua veste. Sarai forte? Avrai coraggio? Userai sempre l'amore in ogni circostanza? Realizzerai sempre l'equilibrio in ogni situazione? Costruirai in te ciò che vedi ora fuori con i tuoi occhi, il Tempio di Dio? Lega questa cima e l'altra cima e realizza nel tutt'uno che nella quintessenza degli elementi realizza in te la supremazia di Dio divenendo Avatar, Maestro, divenendo ossa, sacro e santo uomo. La ricerca dell'amore giunge alla porta della saggezza. Colui che cerca l'amore troverà il fondo la via dell'amore e la saggezza, l'antica saggezza. L'antica saggezza è l'amore più antico dell'universo e l'amore più antico dell'universo ha una gemma, che lo consacra. Questa gemma è sacra e viene posta sul petto di coloro che scelgono di incontrare l'antico amore. L'antico amore è la formula per realizzare la completa saggezza e la completa saggezza si realizza nel momento in cui io conosco completamente l'arte di amare. Per conoscere completamente un'arte bisogna risalire le radici che l'hanno creata e fondata e l'amore, che è la quintessenza, che regna in tutto il creato di Dio arte matematica. Ma, l'amore giovane trova spesso vie di fuga, l'amore antico trova invece un grande equilibrio e una grande forza. L'amore più saggio è l'amore di un antico maestro, antico come le sue anime che hanno percorso l'intero viaggio della vita nel sansara, nella legge della reincarnazione. Colui che ha realizzato l'antico amore, e che lo ha creato saggio e maestro di sé. Essere maestri del sé significa realizzare l'uno all'interno di una vita, complementare e affrontare qualsiasi circostanza con gioia, che è la gemma di cui parlavo prima. L'antico amore è la gioia realizzata come prima essenza dell'amore. Non c'è amore, che non porti alla gioia e non c'è gioia, che sia stata creata attraverso l'amore. Questa è la legge, e questo è il Dharma, che vi permette di uscire dalla legge delle reincarnazioni. Io sono Amrir. Se non conosci l'amore prova ad essere gioioso perché chiamerai a te l'antica legge dell'universo, che è l'amore più antico, che può conoscere l'essenza di ciò che è l'amore. L'amore, che conosce l'uomo oggi è un amore troppo giovane, che si disperde in vie di fuga e presto perde la via. L'amore più antico è la gioia, quella felicità immensa, che lo spirito prova nell'incontrare Dio attraverso la sua ricerca pellegrina nelle sue rincarnazioni. Il Maestro invita dunque il discepolo ad entrare nell'ashram solo dopo che il discepolo dimostra saggezza nell'annodare la sua cinta per cinque volte, consacrandosi alle fondamenta del più antico degli amori l'amore di Dio, il primo che vi ha amato, il primo che vi ha creato, il primo che vi ha realizzato. Mi seguite? Quello è l'amore più antico, che ti ha amato per prima, che ti ha coccolato per primo, che ti ha custodito per prima, che ti ha nutrito per prima. Quello è il vero amore. È l'amore più antico. Quando non vi sentite amati, pensate a quell'individuo universale onnipresente, che per primo vi ha amati. Sarete subito felici e comprenderete che l'amore materiale, che voi conoscete è un amore falso, ingiusto che vi procura sofferenza ed eccadimento. L'amore vero realizza la gemma della gioia, che è la quintessenza, che costruisce l'amore. Non vi è nessun amore, che non realizzi gioia. Se c'è un amore, che non realizza gioia vuol dire che non è l'amore più antico, è una forma giovane dell'amore, che presto decade e perde la via. L'amore più antico realizza la gemma della gioia, che è supremazia dell'essere in comunione con Dio sposato o con Dio. Per trovare la gemma di cui Gesù parla occorre imparare l'amore più antico, pensare a quell'essere che per primo vi ha amato, nutrito, creato, partoriti. Pensando a quell'amore e pensandovi di essere già amati, già nutriti, già partoriti, tutto già esistito dentro di voi, nulla più vi necessita e tutto è ragianza, emissione di raggi di luce d'amore proveniente da quell'antico amore di cui tu senti assaporarne la via attraverso la scelta di seguire la gemma, che è la gioia. Nulla vi deve turbare in questa vita neanche la morte, nulla vi deve turbare lo spirito. Lasciate che ciascuno compi la sua vita nell'inconsapevolezza dell'essere turbando spiriti e anime. Con il loro agire inconsapevole e voi nella completezza dell'essere respingete ciascuna cosa, che turba la vostra gioia interiore e perché spesso fate sì che il ladro entri e vi rubi quella gemma, che vi porta a felicità, che è l'antico amore di Dio, vostro padre e vostra madre divina. Non permettete mai a nessuno per nessun motivo di rubare la gemma, che Dio attraverso il Santo Spirito, che è creazione miracolosa nella sua vitalità nell'universo, appoggiato nei vostri cuori e ha chiuso nello scrigno sacro. Che nessuno vi rubi quella gemma. Non permettete che nessuno vi turbi, perché non ce l'ha quella forza, quel qualcuno è illusione, è venuto per distoglierti dall'attenzione focale verso il padre. Ci riesce nel momento in cui ti toglie la gioia. Ha aperto il tabernacolo, ha aperto il sacro cuore eterico e ha rubato la gemma, l'antico amore, sempre presente dentro ad ogni elemento della vita. La gemma di cui Cristo parla, quella gemma, che bisogna cercare, quella perla, che bisogna andare a scavare nell'orto è proprio la gioia. È talmente preziosa, che non dovete lasciarvi turbare da alcuno nel rubarvela. Questa gioia la si può trovare nell'antico amore universale sapendo di essere amati costantemente, sapendo di essere stati creati, sapendo di essere stati partoriti da Dio in primis. Perciò Cristo insegna lasciate padre e lasciate madre e seguitemi perché io sono la via, la vita, la verità e tutte queste cose portano alla luce e comprensione di ciò che stai compiendo con me. Notiamo che siamo esseri felici nel momento in cui incontriamo quella gioia, che nessuno ci può togliere o rubare, invece noi realizziamo gioie materiali, felicità materiali, che sono come una corona al cuore sacro, che lo rende prima regno e poi, rubata la corona. Lo rende un semplice villaggio di paese. Dove non vi è re non vi è regno, dove non vi è corona non vi è regina. Costruire il sacro cuore, che è una corona, che si cuce intorno al cuore eterico di Dio, che è il Cristo cosmico, significa essere sarti esperti dell'antico amore. Così come un sarto precisamente unisce e una manica al resto del vestito affinché tutto a pennello cada verso la gravità delle cose, così la corona del sacro cuore di Dio arte matematica deve essere realizzata in modo, che non crolli e non venga mai rubata. Il vero avatar costruisce una corona attorno al suo cuore, aguzza parte di questa corona affige la gemma della gioia così realizzando le sette supreme gioie realizza il diamante di Dio. Le sette supreme gioie sono la gioia dell'anima e non del fisico perché abbiamo consacrato la vita dell'anima alla fonte, che ti ha sempre amato, amata, creato, creata, siete con me? Prendiamo la ciotola d'acqua e parliamo con la gemma, che è la legge universale, che vive nella lette di Dio, che è antico amore. Imprimiamo quest'acqua di gioia in modo, che chiunque la beva sorrida, si rallegri, guarisca e nella gioia incontri Dio. Divina fonte di vita, in te imprimo l'antica legge dell'universo, l'amore più antico, che io conosca, l'amore del Padre. In te acqua imprimo i sette sigilli dell'amore universale. In te acqua imprimo le sette gemme delle gioie supreme incontro con Dio, estasi con gli angeli, maestria dei maestri, santità, samadhi, nirvana, paradiso eterno. In te acqua ho registrato le sette gemme, chiunque berrà di quest'acqua sarà guarito.